Fioccano le prenotazioni di tamponi in farmacia da parte dei lavoratori Novax. In vista dell'entrata in vigore da venerdì 15 ottobre dell'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche a Prato c'è chi ha deciso di sottoporsi a tampone ogni 48 ore pur di non vaccinarsi. Si spiega così l'aumento delle prenotazioni di tamponi con appuntamenti fissati o richiesti fino alla fine dell'anno, tre volte alla settimana. Tutto ciò ha comportato un incremento veramente importante del lavoro svolto dalle farmacie sul fronte dei tamponi che può essere quantificabile anche in un 30-40% in più rispetto a quello che avveniva prima. In particolar modo con richiesta anche di calendarizzazioni di più tamponi che come ben sappiamo il tampone vale 48 ore e quindi in certi casi si assiste assiste anche alla richiesta di due o tre tamponi settimanali e tutto questo ha comportato per le nostre aziende uno sforzo importante perché poi c'è anche tutto il resto naturalmente che deve essere svolto. Se da una parte l'obbligo di Green Pass per i lavoratori imposto dal governo Draghi non ha scoraggiato i Novax più convinti disposti a spendere 45 euro a settimana per i tamponi, dall'altra c'è chi negli ultimi giorni ha deciso di vaccinarsi. Abbiamo assistito e questo personalmente è un sanitario dico con piacere ad un incremento della richiesta di vaccinazione perché naturalmente avendo a disposizione questo strumento si riesce anche a affrancarsi dal problema del tampone. Però è negabile dire c'è anche un bel gruppo di popolazione sulla quale è difficile riuscire a far arrivare questo messaggio che continua a sottrarsi alla vaccinazione pur avendo le caratteristiche per poterlo fare e preferisce ovviare a tutto ciò sottoponendosi anche a un qualcosa che è anche diciamo faticoso da gestire perché i due o tre tamponi settimanali naturalmente non sono uno scherzo per nessuno né da un punto di vista logistico di tempo e alla fine neanche economico. Grazie a tutti.